E' stato il cimitero icona di una delle grandi emergenze a Palermo. Nel giorno della festa dei morti il cimitero dei Rotoli si presenta finalmente in uno stato più che decente. Non ci sono più le tensostrutture con le centinaia di bare accatastate ormai da tempo. Le bare che per anni sono rimaste nei magazzini della vergogna sono state inumate in un campo. Sì al lavoro dell'assessore delegato, l'assessore Orlando insieme agli uffici, a Reset, si è potuto intervenire su più aree del cimitero ripristinando funzionalità e decoro. Credo che abbiamo garantito pietà e dignità delle sepolture. E' chiaro che i lavori non sono ancora conclusi ma su questo l'assessore Orlando saprà essere ancora più chiaro ed esaustivo di me. Per anni chi veniva qua il giorno dei morti veniva con il compito di piangere due volte. Una volta per ricordare i propri cari, una volta per le condizioni di questo cimitero. Oggi grazie a tutti il cimitero ha accolto i cittadini in maniera più che decorosa. E nel giorno dei defunti l'obiettivo è quello di rendere il cimitero palermitano ancora più accogliente. Le iniziative che sono in campo sono in questo dei pian che vi consegneremo. Sono quelle che sapete, vanno dall'appalto del nuovo forno crematorio, il vecchio in funzione, all'ampliamento, ai nuovi loculi fuoriterra, al muro di recinzione a monte nell'ex area interdetta. Visitatori contenti dunque di ritrovare dopo tanto tempo un cimitero dignitoso, come l'hanno definito alcuni, dove i propri defunti possono finalmente trovare pace e riposo. Abbiamo visto che è tutto cambiato dall'anno scorso. Hanno levato poi i morti per strada che li mettevano nel corso, però adesso è più pulita, si vedono più organizzate, più pulite e poi molte cose le hanno abolite. Anche i fossi nuovi, sulla terra hanno fatto sepolture nuove che prima non c'erano, erano tutte abbandonate. Si spera che continuino a male. L'unica cosa che speriamo noi palermitani è che facciano la cremazione, il forno crematorio, perché non l'hanno mai messo in funzione. O se lo mettono, durano una settimana, forse meno, e poi lo chiudono. E' un via vai composto e silenzioso, come la ricorrenza richiede, come lo stesso arcivescopo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha voluto sottolineare, per ricordare tutti i defunti, dai caduti in guerra a chi non ha più nessuno che depone un fiore sulla tomba. Una cerimonia sobria e significativa al cimitero di Via Aquicella, con migliaia di catanesi in visita al caro estinto per una giornata all'insegna della tradizione. Chi porta un fiore, chi fa una preghiera, chi siede nei pressi della lapide, quasi a far sentire la presenza. E' un momento per commemorare, un momento in cui bisogna solo avere un attimo di silenzio e di rispetto per tutti i nostri morti. C'è questo legame forte ed è bisogno sempre mantenerlo. In Sicilia devo dire che c'è questa... trovare i bambini idoni dei morti significa in qualche modo mantenere sempre viva la loro presenza. Intere famiglie di buon mattino al cimitero, magari dopo che i bimbi hanno scartato i regali che nella notte sono stati portati dai morticini. Contento perché vuole andare a trovare il nonnino che non c'è più. Importante per la famiglia, ricordi storico, famiglia, importante no? Devono capire che la vita comunque è questa e bisogna prendersi anche cura delle persone che non ci sono più. Amministrazione comunale di Catania, rappresentata dall'assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia. Un giorno di grande riflessione spirituale, religiosa. Abbiamo effettuato il classico giro interno che viene effettuato dall'amministrazione con la donazione, l'omaggio floreale. Viabilità sotto controllo grazie ad un servizio rafforzato e presidi nei punti nevralgici garantiti dalla Polizia Municipale. Fa schifo perché ci sono delle tombe oppure delle strade inagibile proprio. I siracusani definiscono così il cimitero. Dopo Catania siamo stati a Siracusa, denominatore comune il degrado. È una vergogna tutto quello che c'è qui in giro, specialmente nei posti dove ci sono le cappelle e i posti rialzati dove c'è tutta la struttura, il cemento armato. È tutto distrutto. Secondo lei qui manca la manutenzione? Qui manca una buona volontà di fare le lavore e le cose giuste per i nostri defunti. Ci sono all'indomani di tutti i santi i cestoni con i rifiuti che tutti piani. Arrivo a quanto meno in queste giornate che è sfodato. In questi giorni l'affluenza è decisamente più alta rispetto ad altri periodi dell'anno. La situazione però è sempre la stessa, secondo qualcuno peggiorata. Manca la scala e io mi devo fare tutto un corridoio per andare a prendere la scala e mettere un fiore ai miei. Questa scala l'ha portata lei qui? La scala è là sotto. Questa scala era là sotto e quindi ho avuto difficoltà anche perché è pesante. Qui addirittura il tetto è così. Da un momento all'altro qualche calcinaccio potrebbe colpire qualcuno. Si vede, non è che c'è da imbrogliare o fare, si vede, guardi come è combinato. È una vergogna. Alcune zone del cimitero non c'è l'acqua. Questi giorni che sono particolari, perlomeno quelle. Poi non parliamo della sporcizia. In alcune fontanelle manca l'acqua. Nei bagni invece ce n'è forse anche troppa. Un tubo che perde ha lagato tutto. Rischio caduta altissimo. I bagni fanno schifo. Nei cosiddetti c'è sporcizia. C'è di tutto e di più. E poi le piante di cappero non mancano mai. Chi viene qui, oltre a pregare per i propri defunti, non può fare a meno di prendere atto del degrado che la fa da padrone. Una volta si chiamava Salva Catania. Ora è il salva comune in dissesto in generale e pre-dissestro. E si traduce in un nuovo balzello che inciderà sui viaggi di chi arriva in Sicilia. I comuni in uscita dal dissesto potranno infatti imporre un ticket da 3 euro a viaggiatori in arrivo o in partenza, in aereo o in nave. La tassa d'imbarco, così si chiamerà, servirà ad aiutare questi comuni a coprire disavanzi. Ma non solo. Potrà essere aumentata anche la tassa di soggiorno, anche se la misura nasce principalmente per le città di Roma nell'anno del giubileo. Solo a Roma e a Venezia la tassa di soggiorno potrebbe arrivare, in base a questa norma, fino a 12 euro al giorno, a persona. Sono le misure contenute nella bozza della finanziaria nazionale, che dopo aver fatto litigare i partiti su pensioni, tassi e accesso diretto ai conti correnti, adesso prepara un'altra polemica. È utile far lievitare i prezzi del turismo in un paese che di fatto ha nel turismo una delle sue industrie principali. In Sicilia, poi, mentre si combatte il carovoli, il Governo sembra prendere la strada opposta a quella chiesta dalla Regione, imponendo un ulteriore balzello che potrà solo far lievitare ulteriormente il prezzo dei biglietti. Nella manovra, poi, ci sono anche tanti altri provvedimenti, fra i quali la possibilità di prelevare col Bancomat direttamente da Etabaccaio o nei negozi dei centri commerciali muniti di posta, ma c'è anche un limite massimo al credito di imposta e dunque alle detrazioni possibili e più in generale al sistema degli incentivi. Ci risiamo. Le bollette del gas tornano ad alzarsi. Il rincaro di ottobre si aggira, secondo le prime stime, intorno a un più 10% rispetto al mese precedente. Si tratta del terzo rincaro a partire da agosto, una costante che porterà le bollette del gas verso un rialzo nel periodo invernale. Nel dettaglio ci si aspetta un aumento su base mensile del 15% a novembre, del 6% a dicembre. Ma a cosa è dovuto il rialzo? Il paradosso è che non è dovuto alla mancanza di gas. L'Italia e l'Europa tutta hanno già da tempo riempito quasi al 100% i propri depositi grazie alla diversificazione delle fonti. Solo una piccola e insignificante percentuale arriva ormai dalla multinazionale russa Gazbrom. Inoltre le temperature sinora ben al di sopra della media della stagione hanno anche contenuto la domanda di gas. E allora perché questi rincari? Secondo le prime stime, gli aumenti per una famiglia di quattro persone si aggirerebbero intorno ai 120 euro l'anno. Alla base c'è una speculazione finanziaria che fa leva su situazioni geopolitiche. Tra questi lo sciopero degli impianti di riquefazione del gas in Australia, principale fornitore della Cina, un incidente al gasdotto dell'Estonia con paura di attentati terroristici che ha creato un rimbalzo nei prezzi a cui dal 7 ottobre si è aggiunto il conflitto tra Hamas e Israele nella striscia di Gaza. Situazioni che sembrano lontane da noi e invece ci riguardano. E' una vittoria che vale doppio per la classifica e soprattutto per il morale. Il Catania torna da Brindisi con tre punti pesanti e cancella con un colpo di spugna la sconfitta di Avellino scacciando i fantasmi di una crisi che stava diventando irreversibile. I gol di Sarau e Bocic puntellano la panchina di Tabbiani che adesso può guardare con fiducia all'immediato futuro. immediato perché già domenica si torna in campo per un'alta trasferta in quel di Potenza. Ci siamo ricompattati ma vi ripeto anche prima di Avellino. Poi la partita domenica ha preso una piega subito di un certo tipo tante cose che butterebbero giù un toro ma dobbiamo cercare di fare in modo di tornare a casa e riconquistare il massimino. Abbiamo questa partita domenica, poi la Coppa e poi un'altra fuori e cercare di riportare quando torneremo in casa un ambiente diverso che ci potrebbe dare grande aiuto e questo dipende solo da noi. Un successo, il secondo esterno in questo campionato che riporta serenità in un momento delicato della stagione e l'abbraccio finale tra Sarau, autore del gol che ha spianato la strada della vittoria, De Luca, Laneri e Tabbiani chiude il cerchio e apre nuovi scenari. Nessuno adesso ha voglia di fermarsi. Lo ha ribadito Sarau che dopo aver spezzato il digiuno vuole andare avanti, naturalmente a suon di gol come quello firmato al Fanuzzi di Brindisi. Troppo Taranto per un Messina piccolo piccolo travolto dall'entusiasmo e dalla qualità dei pugliesi con una cifra tecnica superiore ai giallorossi. Protagonista del recupero della terza giornata Alfredo Bifurco, numero di targa 14 e autore di una doppietta, prima di sinistro e poi di destro che vale il quarto posto solitario. Bifurco, ben assistito dai compagni Ciance e Canutè è protetto da un centrocampo solido ha messo a nudo i limiti del Messina che si è presentato a Taranto con la difesa a tre. Scelte di Giacomo Modica non premiate da una condotta di gara subito a senso unico. Al minuto 15 primo gol di Bifurco che sul disimpegno morbido di Pacciardi brucia Ortisi con imbarazzante facilità e col piede Mancino supera Fumagalli. Ancora Bifurco al ventunesimo che raddoppia di destro dopo aver seminato sulla sua strada avversari come Birilli. Modica toglie Pacciardi e Polito per Cavallo e Lia con Emmausso e Raguse in panchina e torna al classico 4-3-3. La notizia positiva del primo tempo è che il Messina rimane sotto soltanto di due reti perché Canutè e Cianci avrebbero potuto chiuderla. Nella ripresa il Taranto risparmia energie pensando alla sfida d'alta classifica di domenica contro la Juve Stabia mentre il Messina non riesce ad incidere. Zunno e Cavallo non pervenuti Plesce isolato Fumagalli evita il terzo gol Entrano Raguse ed Emmausso quest'ultimo nel recupero impegna Vannucchi fino a quel punto in assoluto relax. Il 2-0 di Taranto lascia Giallorossi in zona play-out compagna di viaggio costante negli ultimi due anni e tre mesi. Grazie.